È uno dei grandi autori del cinema italiano, uno dei grandi maestri ancora in vita e a cui la vecchiaia non ha tolto lucidità, ma anzi ha aumentato la dose di saggezza, di acume con cui fa film. Lo dimostra il suo ultimo film uscito da qualche settimana, Torneranno i Prati. Chi è? Erman Olmi. Erman Olmi è un regista bergamasco, nato il 24 luglio del 1931 e che nella sua sfolgorante carriera ha vinto una palma d'oro con l'albero degli zoccoli, ha vinto un leone d'oro con la reggenta del santo bevitore e un leone d'argento con lunga vita alla signora, tre davidi di donatello e ben otto nastri d'argento. È un regista autodidatta che non è una novità nel panorama del grande cinema mondiale perché i registi che hanno studiato cinema saranno quelli della generazione successiva, quelli che hanno fatto grande il cinema negli anni 70-80. Lui si appassiona all'arte mentre studia al liceo, però comincerà davvero a prendere in mano la macchina da presa solamente quando comincerà a lavorare in fabbrica. Ed è proprio attraverso dei cortometraggi documentari che hanno la fabbrica al centro del suo occhio che Erman Olmi comincerà a sperimentare il cinema, seguendo in questo caso invece un percorso simile a quello dei suoi colleghi e contemporanei. Penso ad Antonioni, penso anche a Felini, il cortometraggio e il documentario come modo per testare le capacità di fare cinema ma anche le capacità di fare un nuovo cinema diverso da quelle che erano le convenzioni dove l'occhio alla realtà e la capacità poi di poterlo trasfigurare in stile, in arte erano fondamentali poi per quelli che sarebbero state i dettami del grande cinema moderno. In questi corti che spesso sono commissionati dalle stesse fabbri, dalle stesse aziende in cui Olmi lavorava, gli fanno poi capire i suoi legami con la natura, con la montagna, con altre realtà che quelle da cui veniva lui e veniva la sua famiglia. In questo senso appunto arriverà a mescolare le due cose, cioè a fare soprattutto nei primi film a raccontare la fabbrica e il mondo del lavoro però ad aprirsi, è come se l'Olmi giovane che viveva la sua contemporaneità volesse poi scappare. E quindi il mondo del lavoro, il mondo dell'industria e del settore terziario, quindi le novità del mondo del lavoro degli anni 60, si apriranno poi dopo i suoi primi film, le sue opere mature, invece a un occhio più aperto verso la natura, verso il mondo rurale e montano, a cui è sempre voluto ritornare, delineando poi il cuore forte della propria poetica e del proprio cinema e poi quando tornerà a metà degli anni 80 dopo una lunga malattia che lo ha debbiliato ma da cui si è rialzato, l'occhio di Erman Olmi comincerà a guardare alla storia, comincerà a guardare al passato. Ecco, questi tre tasselli, lavoro, natura e passato e storia, sono tre tasselli fondamentali per rispondere alla domanda perché Erman Olmi ha un grande posto nella storia del cinema italiano, europeo e Sava Sandir, mondiale. Questi tre tasselli sono, come dire, lo sguardo di Erman Olmi sul mondo. Il grande posto, come dire, il grande merito di Erman Olmi nella storia del cinema è quello di aver trasfigurato i dettami del cinema neorealista. È chiaro, è evidente che il cuore del cinema di Erman Olmi sta lì, sta nel cinema del dopoguerra italiano, sta nel neorealismo, però è un cuore che Erman Olmi rilegge attraverso, come dire, le grandi pagine, il grande respiro, la forza narrativa del romanzo naturalistico dell'Ottocento, penso a Verga, penso soprattutto a Zola, che facevano appunto quello che Erman Olmi ha fatto col suo cinema, cioè mettere insieme questi tre tasselli il lavoro, la natura e la storia non per raccontare un passato idillico, non per idealizzare a volte il mondo dei contadini, il mondo degli alpini in altri casi, ma per guardare al presente, per raccontare l'essenza degli italiani e l'essenza del tempo che si stava vivendo di volta in volta e tutto questo filtrato è, come dire, legato da un grande senso della spiritualità della natura, dell'uomo e della natura. La, come dire, la componente religiosa e cristiana, ovviamente in senso molto largo e anche molto laico, di Erman Olmi è fortissima e innegabile, ma lo fa attraverso la spiritualità dei luoghi e delle cose e in questo senso è fortissimo il legame con quel cinema neorealista, soprattutto con il cinema di Rossellini e soprattutto con il proseguo della carriera di Roberto Rossellini. Altri elementi che Olmi prende dal cinema neorealista ma che poi trasfigura sono, come dicevamo, la sacralità dei luoghi e l'importanza dei luoghi ripresi nel loro essere. In questo c'è un capolavoro come l'albero degli zoccoli di cui parleremo fra poco che lo testimonia e anche l'uso degli attori non professionisti. Quasi sempre nella sua carriera e nei suoi film migliori sicuramente Erman Olmi ha preso gli attori non professionisti, ma non solo non professionisti, ha preso proprio intere comunità per farle parlare con la loro voce, per raccontare attraverso le storie che scriveva, in realtà raccontare anche quasi dei piccoli saggi di antropologia che mentre raccontavano delle realtà che andavano a morire raccontavano anche la realtà dell'Italia intera, raccontavano delle realtà di tutti gli italiani. Penso in questo senso a un film che non citerò nei tre imperdibili ma che mi sembra, come dire, una delle summe possibili del cinema Erman Olmi ed è Cammina Cammina in cui la storia di Re Maggi viene trasfigurata attraverso l'uso della storia, attraverso l'uso di Volterra, del dialetto toscano e comunque dei dialetti del centro Italia e attraverso una rilettura della sacralità, una rilettura della spiritualità. A parte Cammina Cammina, che è un film particolare, molto anticonvenzionale nel percorso di Olmi, quali sono i tre film imperdibili se volete conoscere e scoprire Erman Olmi? 1961, Il Posto, il suo secondo film, il suo secondo lungometraggio da regista e da subito un colpo, va a Venezia e vince il premio della critica e si fa conoscere in tutto il mondo. Perché? Perché innanzitutto è uno dei primissimi film sul settore terziario che aveva, insomma, era nato, il settore terziario è quindi quello degli uffici, degli impiegati, che era nato in letteratura ovviamente molto prima, molto prima della Seconda Guerra Mondiale, ma che solo dopo il neuralismo era potuto arrivare al cinema. Qui nel raccontare la storia di un impiegato sostanzialmente, di vita quotidiana, ecco, un altro degli elementi forti, fortissimi, è quello non solo di raccontare le persone comuni, le persone di tutti i giorni, i personaggi, i luoghi e le comunità della realtà, ma anche quello di limitare, molto spesso, non sempre, ma limitare molto spesso la narrazione alla quotidianità. Anche questa però trasfigurata attraverso lo stile, attraverso la passione, attraverso un occhio che veramente trascende e diventa quasi epica quotidiana. In questo caso diventa l'epica del mondo del lavoro, che è un film attualissimo a più di 50 anni di distanza, tant'è che è stato in un certo senso riproposto da Pupia Vatin impiegati negli anni Ottanta e da Cappuccio in Volevo Solo Dormirla Addosso negli anni 2000. È un film che, come dire, è un film che in un certo senso, anche se sottostimato spesso, è un film che fa un po' da guida al cinema italiano che vuole parlare di lavoro e di lavoro nel terzo settore. L'intelligenza con cui non solo racconta quel mondo, non solo racconta le dinamiche psicologiche all'interno del mondo di lavoro che sembrano uscite da un cinema fatto oggi, ma soprattutto la modernità dello stile con cui il montaggio, il decoupage della scena viene continuamente frammentato per restituire il senso di lievissima, di sottile disperazione, di ironica disperazione del protagonista e del cinema che lo contiene. Il suo opposto nel percorso cinematografico, nei toni, nel modo di fare cinema, è forse il capolavoro massimo di Erman Olmi, 1978, L'albero degli zoccoli, che vince la Palma d'Oro a Cannes, che vince tantissimi premi, ed è veramente un film straordinario, un film che ha veramente segnato un'epoca, per tante ragioni. Anche qui la storia è assolutamente quotidiana, anzi qui non c'è neanche una storia, perché non ci sono dei veri e propri personaggi. C'è, come dire, al suo meglio una comunità, la comunità dei contadini bergamaschi, raccontati sulla fine dell'Ottocento, e mentre sullo sfondo c'è la storia, in realtà quello che interessa a Olmi è mettere in scena la vita rurale, e creare, come fece Zola con i suoi romanzi, un affresco che era allo stesso tempo contemporaneo, ma senza tempo. Se non ci fosse poi una seconda parte in cui i moti del maggio del 1998 riecheggiassero nella storia, noi non sapremmo mai qual è la storia che si sta raccontando in quel momento e qual è il periodo storico. Quello che interessa è la natura, è riprendere quei luoghi, è riprendere i gesti, è dare forza, dare valore, dare dignità a quei movimenti, ai movimenti anche della natura, delle stagioni, al lavoro. Ed è qui che si ricollega l'amore per la natura con la sacralità del lavoro, e che è un'operazione straordinaria che fa, facendo parlare, come dicevamo, i contadini con le loro voci, dialetto bergamasco, in alcune copie è sottotitolato, ovviamente vi metto qui i film per vederlo subito, la copia che vi metto è sottotitolata da YouTube, in questo caso, e fare però, come dire, raccontare attraverso la realtà, attraverso i gesti, attraverso un mondo che sparisce, comunicare allo spettatore il senso della storia, non parlando di storie, non facendolo attraverso delle storie, attraverso dei racconti, ma con dei personaggi che si muovono e che comunicano direttamente allo spettatore perché sembra che stiano parlando di loro nonni. Ed è per questo che è un film straordinario, perché c'è la complessità del grande romanzo, della grande narrazione, resa nella maniera più naturale possibile, facendo finta che la narrazione non esista e che esistano solo dei fatti, delle realtà, un film illuminante pieno di sequenze memorabili come lo sgozzamento del maiale, come i carri che vengono, come il modo in cui i contadini fregano i padroni, veramente un film meraviglioso. 2001, il mestiere delle armi, che dal punto di vista stilistico forse è l'apice, cioè proprio dal punto di vista della gioia della messa in scena, della bellezza del cinema, raccontando anche qui la storia vera e certificata dai libri di storia di Giovanni dalle bande nere, anche qui Olmi fa di nuovo un viaggio nella pietà, nei sentimenti umani, nel bisogno di compassione, soprattutto all'interno di quella che è, come dire, il gesto più meschino del mondo, se il lavoro è il gesto più nobile, se il lavoro della terra è il gesto più nobile e più sacro per Erman Olmi, qui parla della guerra, che è un tema che affronterà molto spesso nel suo cinema tardo, potremmo dire, soprattutto, quindi dicevamo anche l'ultimo, torneranno i prati, in questo caso però la guerra diventa, come dire, il gesto che dissacra, il gesto che uccide Dio ogni volta e attraverso cui poter raccontare la pietas, un senso del patos e del sentimento che viene trasfigurato sempre in saggezza, in lucidità, proprio come fa molto spesso nel suo cinema ultimo, ma che diventa meraviglia visiva e anche capacità di commuovere, di emozionare con piccoli tocchi e soprattutto rileggendo la storia, rivedendola, rendendola assolutamente contemporanea. Un film meraviglioso a cui farà, ecco, due anni dopo, un altro film bellissimo su toni però un po' più leggeri, più scansionati, come cantando dietro i paraventi a formare un ideale dittico sul modo in cui Olmi rivede, rilegge il cinema d'avventura attraverso i suoi canoni, attraverso il suo grande amore però per la storia e per l'essere umano. Questo era il mio Erman Olmi, come dire, il mio ritratto, il mio omaggio a Erman Olmi, insomma, se vi è piaciuto, cliccate mi piace, se c'è qualcuno che è interessato a Erman Olmi, condividetelo, ovviamente cliccate per vedere i film, ve li metto qui nel riguadro e poi ve li metto anche sotto. Settimana prossima andiamo su un altro maestro contemporaneo che però sembra sempre giovanissimo, sembra sempre vitalissimo. È appena uscito il suo ultimo film e quindi ci andiamo a chiedere settimana prossima chi è Woody Allen?